Un ragazzo dietro le sievi o le mura senza niente, come chi si allontani di un passo o per sempre, niente più. Volponi è un politico della Prima Repubblica e uno scrittore. Quanto della sua opera possiamo ritrovarla oggi, a distanza di un ventennio della morte? L'opera di Volponi a distanza di un ventennio ormai dalla morte si rivela di estrema attualità, intanto perché gli argomenti che affronta, le trame che ci offre nei suoi romanzi, i punti di vista soprattutto, ma anche la forza, soprattutto la forza della sua scrittura, affondano nella realtà cercando di sviscerarne le contraddizioni. Di qui appunto il titolo estremo, nel senso che non si ferma a, prima si diceva durante la presentazione, diceva proprio benissimo Emiliano, non si ferma a registrare la superficie ma irrompe la realtà e cerca di coglierne le profondità, di vederne le profondità. Certo questo produce una scrittura difficile, difficile questo è l'elemento, se vogliamo dire, tra virgolette un po' inattuale, nel senso che oggi lo scrittore che entra in una libreria cerchi romanzi facili. Ecco, Volponi non si offre in maniera facile, quindi è necessario che il lettore si metta alla pari con lui, non lascia alla prima difficoltà. Forse questa è proprio la contraddizione con l'epoca attuale, che è un'epoca superficiale. Secondo me, ancora, non solo secondo me, ma penso di interpretare anche Emiliano, anche Tiziano, che qui non è con noi, e poi soprattutto di tanti autori, relatori del convegno dal quale questo volume è nato, pone proprio, richiede una riflessione ulteriore, supplementare su quello che è il senso e oggi la missione della letteratura, cioè quella di non fermarsi a guardare semplicemente, a registrare realtà, ma a capirla e a capire anche poi ad agire. Emiliano, nel tuo intervento hai trovato un'ispirazione di Volponi in Leopardi. Ci puoi spiegare questo collegamento? Sì, dunque le provenienze leopardiane sono numerose in Volponi, io mi sono soffermato in particolar modo sul simbolo della Luna, e ogni volta che sostanzialmente viene evocata la Luna in Leopardi, la Luna viene utilizzata per illuminare la totalità del suo interlocutore, ed è sempre una totalità in qualche modo simbolica o allegorica. Nella Luna di Leopardi, questa poesia giovanile, abbiamo la Luna che illumina la totalità del suo interlocutore, che è Giacomo Leopardi, in cui Leopardi in sostanza rievoca tutta la sua vita passata, e nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia abbiamo invece questo pastore errante, che è questo uomo indefinito che rappresenta il genere umano, e quindi abbiamo la Luna che illumina la totalità dell'esistenza umana e il senso dell'esistenza umana. Invece nelle mosche del capitale di Paolo Volponi abbiamo questo dialogo tra la Luna e il calcolatore, che in qualche modo è fatto sul, che ricalca il dialogo tra la Terra e la Luna, che troviamo nelle operette murali di Leopardi, dove però l'interlocutore della Luna non è più la Terra, non è più un pastore errante dell'Asia, quindi non è più l'umanità tutta, ma è il calcolatore elettronico che esprime in sostanza il sistema sociale nel quale Volponi si trova a vivere. E da questo punto di vista, se prima in Alla Luna abbiamo una totalità biografica, nel pastore errante dell'Asia abbiamo una totalità antropologica, in Volponi invece nelle mosche del capitale abbiamo una totalità sociale. E il calcolatore elettronico rappresenterebbe la logica quantitativa, la logica misurante in qualche modo che contraddistingue le società occidentali a conduzione capitalistica. Grazie, complimenti per il lavoro.